per qualche settimana ieri sera siamo stati a suonare lì per la seconda volta passateci perché è molto importante che qualcuno abbia alzato la testa nei confronti del modo vergognoso di cui la cultura viene trattata in questo paese era ora che qualcuno cominciasse ad agire, non lasciatevi soli la cultura viene trattata in questo paese sarà verina siamo fii e sbacchi usa l'amore il suo di te cuore usa sbacchi 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 usbacchi sbacchi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.